L'innovazione nel mondo dei rivenditori edili, secondo noi, sta prendendo piede in diversi ambiti. Da un lato sicuramente i loro processi di gestione, le loro piattaforme e quant'altro si stanno evolvendo sempre di più, ma il processo più interessante è quello dell'e-commerce. Le rivendite che continuano a portare avanti il loro stile di vendita tradizionale, quindi affacciandosi al mercato in maniera tradizionale, stanno al contempo anche aprendo nuove strade con l'e-commerce su canali di vendita alternativi, piattaforme virtuali, che stanno dando dei risultati sempre più sorprendenti. Per noi è molto interessante collaborare con queste rivendite che credono in un'innovazione, perché anche noi da anni cerchiamo di essere sempre all'avanguardia, non tanto nell'offrire prodotti sempre innovativi, ma nel fornire soluzioni e processi che possano aiutare in un mondo di vendite diventato meno definito e più liquido, potremmo dire. Quindi i processi non sono più lineari come una volta ed è importante per noi come fornitore, come loro partner, poterli aiutare in questo processo sempre più trasversale. Ad esempio con un polo logistico efficace, poter permettere loro di avere sempre il materiale giusto, nel posto giusto, come se fossimo una sorta di supermercato in cui il materiale non finisce. Quindi è importante che affinché loro abbiano i loro carrelli, sia virtuali che fisici, pieni, alle spalle abbiano dei partner come noi in grado di riempirglieli. Per noi è fondamentale quindi essere percepiti da loro come un partner affidabile e quindi l'innovazione in un certo senso è sia la logistica che l'affidabilità, ma è tutta una serie di servizi che vanno oltre il prodotto, che è sicuramente la base. La base ci deve essere un prodotto di altissima qualità, ma è un punto di partenza, non è più un punto d'arrivo. Grazie a tutti.